Il 9 ottobre inizia Libriamoci, una manifestazione che quest'anno vuole volare più alto? Assolutamente sì, una manifestazione l'undicesima di livello nazionale con grandissimi autori che presenteranno i loro testi, chi in forma innovativa come Davenia, chi in forma classica come altri, voi potete pensare a Tonelli, a Trevi, Premio Strega, allo stesso Buticchi che è uno spezzino doc, a Vergassola e tanti altri, un mese bellissimo, interessantissimo un mese di riflessioni di altissimo livello che coinvolge un po' tutti i settori, tutti i gusti letterali compresa la fumettistica Grande spazio anche ai bambini perché Libriamoci vuole essere anche un incentivo alla lettura Sì assolutamente, noi dobbiamo seminare proprio dentro ogni bambino la curiosità di leggere leggere vuol dire tante volte viaggiare nel mondo, viaggiare nel tempo, nelle emozioni, nello spazio e quindi formare la persona del domani I bambini sono veramente importanti da questo punto di vista per creare una società migliore e quindi una sezione sarà dedicata interamente a loro Finalmente si torna in presenza anche se l'attività culturale non è mai cessata e questa manifestazione coinvolge tutti i presidi culturali della città Sì assolutamente, abbiamo voluto dare questo segnale, riprendiamo in presenza ancorché in numeri limitati però la frequentazione di Sala Dante, del Teatro Civico dell'Auditorium della Beghi, della Mediateca, cioè di tutti i luoghi della cultura della nostra città che dopo la pandemia sono stati ripensati per ogni cittadino, per ogni turista, per ogni studente proprio a misura d'uomo e questo per noi è fondamentale ancorché durante la pandemia abbiamo messo a disposizione tutti i servizi possibili e immaginabili proprio per non lasciare soli nessuno e poter continuare alle riflessioni, alle letture ai pensieri che ci devono accompagnare nella vita e noi fortunatamente abbiamo un grande patrimonio da valorizzare e chiaramente da far sfruttare a tutti i nostri concittadini Grazie 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 Grazie